Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Essere famosi non sempre è sinonimo di benessere o di essere ricchi. Se è vero che essere persone note in un determinato campo può essere sicuramente un vantaggio, dall'altro lato bisogna pur sempre fare i conti con le difficoltà che la vita di tutti i giorni ci mette dinanzi. Purtroppo dobbiamo darvi una notizia che in queste ore sta facendo ha lasciato tutti senza parole. Secondo quanto si è appreso in queste ore dalla stampa internazionale, è deceduta all'età di 36 anni la figlia della famosissima attrice britannica Anna Chancellor, nota per aver interpretato Lady Anne Strother in Downton Abbey. La serie in questione ha avuto molto successo anche nel nostro paese, dove è stata vista da milioni di telespettatori. Una serie nota in tutto il globo che ha appassionato moltissime persone. Un vero e proprio classico dei nostri tempi. La figlia di Anna si chiamava Poppy. Come detto aveva 36 anni ed è venuta a mancare a causa di una patologia contro la quale da tempo faceva i conti. Poppy era affetta da una leucemia mieloide acuta ipoplastica che le era stata diagnosticata a maggio del 2023. Durante il trascorso della sua patologia la stessa Poppy aveva informato circa le sue condizioni di salute a mezzo social. Recentemente le sue condizioni si erano aggravate.